allora il primo ramo fruttifero che incontriamo sul pero è il brindillo ramo di un anno lungo dai 15 e 25 centimetri e è contornato sul suo asse di gemme a legno quindi le gemme a legno daranno poi luogo a germogli mentre la sua gemma apicale è una gemma mista quindi è un potenziale ramo fruttifero perché qua emetterà chiaramente il frutto chiaramente nelle gemme a legno poi man mano che cresceranno i germogli l'anno successivo potranno diventare delle lamburde che adesso andiamo a vedere la lamburda è un ramo di un anno che nasce su un ramo di due anni alla cui estremità ha una gemma o mista quindi che potenzialmente può emettere un frutto o di una gemma come vediamo qua a legno dove nascerà un germoglio chiaramente in quella legno quando nascerà il germoglio ci sarà una lamburda di due anni che nella gemma apicale potrà essere o fruttifera quindi avere una gemma mista oppure di nuovo ancora una lamburda a legno che metterà di nuovo un germoglio quando noi nelle lamburde abbiamo come in questo caso una gemma mista dove potrà emettere un frutto alla raccolta del frutto si genera una sacca chiamata sacca di riserva vi faccio vedere ecco qua guardate qui è nato il frutto questa era una lamburda di un anno come vedete dalla lamburda di un anno si è generata una seconda lamburda fruttifera che è questa qua che sto toccando ed una piccola lamburda a legno in queste sacche di riserva possono nascere quindi lamburde una o due comunque si hanno queste conformazioni un po rigonfie perché si crea proprio una sacca di riserva dove c'era il frutto quindi da queste lamburde del primo anno una volta che abbiamo raccolto il frutto si genera questa sacca di riserva dove può nascere faccio un riepiro la lamburda di nuovo più fruttifera dove si sarà un nuovo frutto quindi si crea un'altra sacca di riserva una lamburda a legno addirittura come possiamo vedere qua un brindillo quindi la lamburda è un ramo fruttifero che si rinnova nel tempo come poi avviene anche per l'altro pomaceo che è il melo ma quando abbiamo una situazione di fruttificazione di 3 4 anni chiaramente si creeranno grosse sacche di riserva questa conformazione un po storta un po strana chiamata zampa di gallo che vengono generalmente al terzo quarto anno eliminati in modo da rinnovare il ramo perché i frutti che da cominciano ad essere di scarsa dimensione scarsa quindi valore infine poi abbiamo i succhioni che si pongono internamente al ramo diritti in modo verticale crescono sulla branca sono dei rami molto vigorosi in questo caso sono piccoli ma riescano a raggiungere anche 70 80 centimetri sono adornati di tutte gemme a legno sul proprio asse anche la gemma picale a legno quindi non sono fruttiferi il primo anno possono diventare fruttiferi il secondo anno perché dalle gemme a legno si possono generare eventualmente delle lamburde fiorifere sul meno abbiamo tre rami fruttiferi che sono le lamburde e brindilli e rami misti prima di andare a riconoscere questi rami occorre conoscere però le gemme le gemme del meno sono due o è a legno o è una gisma mista quindi quella legno quando si schiuderà nasceranno fogli e nuove germogli su quella mista nascerà il fiore che se fecondato e impollinato quindi nascerà il frutto e le foglie allora il primo ramo fruttifero che incontriamo sul melo è la lamburda la lamburda cioè o la lamburda fiorifera che è questa qua si riconosce perché è un corto rametto no molto corto due tre quattro centimetri che termina con una gemma mista quindi nascerà sia il fiore o i fiori che le foglie mentre c'è anche la gemma e la lamburda a legno scusate la lamburda a legno si riconosce perché la gemma a legno è una gemma molto più appuntita qui nascerà solamente che il germoglio per quest'anno poi un altro anno può essere che questa lamburda che essere rinnovata quindi sarà una lamburda di due anni potrai mettere una gemma mista quindi avere foglie e frutti quindi le lamburde sono i migliori rami fruttiferi del melo ok l'altro ramo che possiamo incontrare fruttifero del melo è il brindillo il brindillo è un ramo lungo 15 20 centimetri anche 25 molto esile e flessibile dotato dotato lungo il suo asse di gemma a legno quindi nasceranno solamente foglie e germogli mentre nella punta la punta apicale è una gemma mista quindi qui il melo può produrre il frutto un altro ramo che possiamo trovare su un melo è l'ultimo è appunto il ramo misto il ramo misto è un ramo molto più vigoroso del brindillo è lungo dai 60 70 centimetri lungo il suo asse ha sia gemme a legno che gemma a fiore è ok quindi è un ramo fruttifero del melo i brindilli che poi eccolo qua uno che fruttificano nella loro dopo la loro sacca di riserva può nascere di nuovo un altro un altro brindillo con sempre una una gemma mista e quindi potenzialmente può fruttificare però come vedete inizia a fare una conformazione abbastanza strana e poi un percorso per la linfa un po anomalo quindi il frutto che sta eventualmente attaccata a quest'ultimo brindillo è un frutto veramente piccolo e di scarsa qualità quindi generalmente i brindilli che hanno fruttificato vanno troncati vanno eliminati o a paro della bronchetta oppure alla lamburda che se troviamo una lamburda lungo il suo percorso ok quindi le lamburde possono fruttificare tranquillamente fino al terzo anno al quarto oramai hanno fatto la zampa di galle vengono eliminate i brindilli a fruttificazione del primo anno vengono generalmente tolti così come accade nel nel pero anche nel melo che è sempre una pomacea la lamburda una volta che fruttifica può ancora proseguire negli anni la sua fruttificazione ma si crea una una sacca di riserva dove è nato il frutto e quindi un ingrossamento si chiama proprio sacca e da quell'ingrossamento poi può nascere anche un'altra lamburda o due sempre fiorifere e quindi che possono fruttificare fino al terzo quarto anno però nell'andare del tempo queste queste lamburde non fanno altro che fare delle varie diramazioni fino a che si creano delle conformazioni chiamate proprio zampe di gallo ossia delle conformazioni che hanno tre quattro anni che sono tutte un po stortignaccole arrivata a quel punto queste lamburde conviene proprio andare a troncare perché iniziano a dare dei frutti di di scarsa non qualità ma scarsa pezzatura il melo cotogno fiorisce con le sue gemme apicali appunto sull'apice del brindillo ramo misto e quindi da qui ci sarà la produzione del frutto qui possiamo vedere i frutti eccoli qua come vedete siccome fruttifica su questi diciamo rami misti sulla gemma apicale del ramo misto o sulla gemma apicale del brindillo non ha bisogno non avendo i mazzetti di maggio non ha bisogno di del diradamento i succhioni possiamo vederli qua lo ripetiamo un'altra volta sono quei rami che crescono sulla dorsale delle nostre branche crescono in maniera verticale sono molto vigorosi e non sono produttivi i polloni del melo cotogno crescono molto folti e vigorosi alla base del tronco vedete questo è il tronco questa che è la base proprio sull'apparato basale crescono questi polloni spero che anche questo video sia stato di vostro aiuto lascio sempre i commenti aperti e vi lascio agli ultimi 6 secondi del video dove ci sono sempre i link interattivi di che vi porteranno altri interessanti video qualsiasi domanda postatela all'interno del mio video grazie e ci vediamo alla prossima amici ciao ciao